Salve a tutti, benvenuti e bentornati. Come sempre vi invito a iscrivervi, a lasciare un like, condividere e commentare. Oggi si parla di Eli Mobile, la compagnia telefonica mobile virtuale cui il co-founder è Gianluca Vacchi. Gianluca Vacchi lo conosciamo un po' tutti quanti, non c'è bisogno di spiegare chi sia Gianluca Vacchi. È una compagnia particolare, nel senso che è una compagnia mobile virtuale, si appoggia a rete Wind3, non ha limitazioni di velocità come l'hanno altri operatori, ma soprattutto crea una community, ha dei servizi a valore aggiunto che gli altri operatori mobili virtuali non hanno. Quindi ha già dei plus che alcune compagnie virtuali non hanno. Entriamo subito nello specifico, ha tre piani, Easy, Elite e Elite per 12. Easy, attenzione, c'è da fare un'altra premessa, tutte le tariffe che vi sto dicendo sono valide in promozione fino al 31 agosto 2022. Quindi per sottoscrizione fino al 31 agosto, queste sono le condizioni, Easy, che è l'entry level, 100 giga, minuti limitati, 100 sms e a Elysium, la comunità di Heli Mobile, Run With Me, che è un'applicazione che fa guadagnare Heli Coin in base all'attività fisica, quindi a quanto si cammina e l'Heli Coin, che è un token, una, chiamiamola valuta virtuale, che però è più da considerarsi un token spendibile all'interno di Heli Mobile. Quindi quando si ricarica il credito si hanno TOT, Heli Coin, con le attività Run With Me, altre Heli Coin, insomma è incentivante. Il costo di Easy, 100 gigabyte al mese, è di 6,99 al mese, con un costo di attivazione di 9,99 euro. Poi c'è Elite, 150 giga, minuti limitati, 100 sms, Elysium, Run With Me, Heli Coin e contenuti extra. Contenuti extra possono essere contenuti multimediali, ma addirittura incontri dal vivo, quindi contesti con anche VIP, che possono fare la differenza, possono essere interessanti, già si parla di coinvolgimenti di influencer, calciatori, insomma una cosa interessante, visto che comunque è incluso all'interno del piano telefonico che si paga 9,99 euro al mese, più 9,99 euro di attivazione. E infine c'è Elite per 12, 120 giga, minuti limitati, 100 sms, 95,99 euro all'anno, che in sostanza equivalgono a 7,99 euro al mese, si paga una volta, d'accordo, una volta all'anno, quindi come ho detto, è come se venisse a costare 7,99 euro al mese il piano, zero costo di attivazione, zero costo di attivazione, e oltre a quello che abbiamo già detto, oltre a Elysium, oltre a Run With Me, oltre a Heli Coin, ci sono anche i contenuti extra, ma c'è anche il servizio concierge, che hanno ad esempio alcune carte di credito, oppure altre tipologie di servizi, che sono quasi sempre finanziari, d'accordo, carte di debito, oppure wallet, insomma, c'è qualcosa che fa la differenza. Come ho detto, è sotto rete Wind 3, non ha limitazioni di velocità, ed è interessante, quindi io a Heli Mobile voglio dare un'opportunità, prossimamente ordinerò la SIM per vedere un pochettino quali sono le performance di una SIM Heli Mobile. Dopodiché, si potrebbero fare tante considerazioni su Gianluca Vacchi, su quello che ha creato, sulla base del suo personaggio alto. Io dico solamente una cosa, proprio il personaggio Gianluca Vacchi, sulla base della sua esperienza, tra l'altro Gianluca Vacchi non è solamente un influencer, uno che fa i ballettini, ma è un imprenditore, ha voluto portare la sua esperienza di influencer, di persona, di personaggio sui social network all'interno di una compagnia telefonica che comunque fa un po' di differenza, perché, come ho detto, non è più legato alla guerra del prezzo relazionato ai giga, ma qua parliamo anche di servizi aggiuntivi. E per servizi aggiuntivi parlo di servizi fruibili da quasi tutti. Perché dico da quasi tutti? Perché spesso ho criticato Iliad per non riuscire a customizzare l'offerta, nel senso ho bisogno di un'opzione per questo mio tipo di esigenza, come sono le compagnie telefoniche, chiamiamole tradizionali, come Vodafone, come Windtree, come Team, ad esempio ho bisogno di andare al di fuori dell'Unione Europea, ho bisogno di un'opzione che mi permetta di navigare o di parlare al di fuori dell'Unione Europea. Però è un'esigenza ristretta, non per buona parte dei clienti. Qua ha creato una serie di servizi aggiuntivi inclusi nei piani che si sottoscrivono molto interessanti. E vedo come target di riferimento un pubblico che va fino ai 35-40 anni, perché è quello, secondo me, il tipo di target. Poi posso sottoscriverlo anche un cinquantenne, un sessantenne, un settantenne, un spantenne, non c'è un limite d'età. Però vedo come potenziale target questo tipo di clientela, perché è sostanzialmente quel tipo di clientela a cui è rivolto questo tipo di servizi supplementari, servizi a valore aggiunto. Fatemi sapere cosa ne pensate, se siete già clienti Eli Mobile lasciate un commento descrivendo la vostra esperienza. Io vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!